Buongiorno ragazzi e ragazzi nuovissimo video allora proseguiamo la settimana con un nuovo video dato che oggi è bel tempo il sole splende ho controllato il meteo oggi e domani sarà bel tempo devo assolutamente fare tre lavatrici una dedicata ai panni di Valeria una capi bianchi una capi colorati ho deciso quindi di fare questo video con i sette consigli che io vi posso dare per un bucato corretto e profumato ragazze è sopraggiunta anche Valeria allora vi dicevo piccola postilla dato che in questo periodo sono molto impegnata per l'organizzazione del battesimo perché devo fare il corso per la preparazione al battesimo devo cercare i vestiti devo ritornare alla location per scegliere il menu e gli allestimenti devo fare tante cose ma poi farò un video dedicato e vi dirò tutto anche perché sto registrando anche delle piccole clip ma a parte questo poi dopo il battesimo dobbiamo iniziare dei lavori a casa perché sapete che noi ogni anno ci prefissiamo un lavoro da fare perché quando abbiamo costruito casa non siamo riusciti a realizzare tutti i nostri progetti quindi piano piano facciamo un lavoro l'anno quest'anno c'è un'altra cosa ma poi vi parlerò anche di questo e quindi sono abbastanza impegnata su tutta una serie di cose io le vostre richieste le farò tutte piano piano ma mi serve un po' più di tempo perché tante mi richiedono le stesse cose io lo vedo non è che mi sono dimenticata io mi sto segnando tutto ragazze quindi vi chiedo semplicemente un po' di pazienza tutto qua ma adesso iniziamo subito nel preparare la lavatrice e vi do i sette consigli per una lavatrice come vi dicevo corretta e per avere un bucato comunque profumato e anche perché su instagram domenica una ragazza mi ha detto che lei è completamente inesperta e ha bisogno proprio anche delle basi perciò scusate se ci sono dei rumoretti di sottofondo saluta Valeria saluta ciao ciao zia zia ok iniziamo col video primo consiglio che voglio darvi non far accumulare i panni a sporchi vi sarete accorti che più tempo i capi restano in eccesso della biancheria prima di essere lavati e più si accumula il cattivo odore che sarà difficile eliminare il secondo consiglio che voglio darvi è di scegliere il giusto programma di lavaggio è fondamentale per ottenere un risultato perfetto ogni tipo di tessuto a seconda del livello di sporco e del tipo di macchie presenta e richiede un programma di lavaggio specifico è necessario poi prestare attenzione anche a due aspetti seguire le raccomandazioni del produttore consultando le etichette sui capi e scegliere il programma di lavaggio più adatto il terzo consiglio che voglio darvi è quello di usare correttamente il detersivo e l'ammorbidente per ottenere un bucato fresco e profumato non è necessario utilizzare più detersivo del previsto o quindi aggiungere dosi superiori a quelle raccomandate perché in questo caso possiamo anche deteriorare i capi o danneggiare la lavatrice per questo vi consiglio comunque di aggiungere un misurino di bicarbonato nella vaschetta del detersivo oltre al nostro detersivo preferito e di aggiungere nella vaschetta dell'ammorbidente almeno 20 o 30 gocce di olio essenziale della vostra fragranza preferita il quarto consiglio è quello di utilizzare programmi specifici in base al tipo di bucato quindi se bianchi se colorati se neri se delicati e scegliere la giusta temperatura ad esempio io metto 30 gradi per i lavaggi veloci per rinfrescare il bucato che non è macchiato 40 gradi per i capi colorati 60 gradi per i capi macchiati indumenti molto sporchi ma al 60 gradi lavo anche le lenzuola e gli strofinacci il quinto consiglio è quello di asciugare il bucato correttamente il processo di asciugatura ha un impatto decisivo sulla profumazione dei capi è importante che il bucato si asciughi non appena il ciclo di lavaggio è terminato stendendolo possibilmente all'aperto oppure utilizzando l'asciugatrice è meglio evitare di stendere il bucato in spazi chiusi perché potrebbe crearsi umidità e di conseguenza cattivo odore per lo stesso motivo è importante non riporre i capi nell'armadio quando non sono ancora completamente asciutti perché potrebbero formare la muffa il sesto consiglio è quello di mettere dei profumatori nell'armadio o nei cassetti gli possono appendere profumatori naturali, bustine di lavanda o semplicemente spruzzare all'interno dell'armadio sugli abiti fragranze fresche e delicate il settimo consiglio è quello di stirare stirare non serve solo a rimuovere le pieghe ma può rivelarsi utile anche per profumare ulteriormente i capi aggiungendo all'acqua distillata un aroma leggera e la sensazione di pulito resterà intrisa negli abiti molto più a lungo grazie ragazzi avete visto questi sono i sette consigli principali se seguite questi vedrete che il vostro bucato non avrà nessun tipo di problema sarà smacchiato, profumato, eventualmente sgrassato e igienizzato perciò non potete sbagliare concludo a questo punto il video io sto controllando Valeria nel box ragazze perché è diventata molto impegnativa la bimbetta vi mando un bacione immenso lasciatemi un like per sostenermi iscrivetevi al canale chi mi vuole seguire su Instagram e TikTok mi trova come Federica Sweet02 un bacione